Buongiorno e benvenuti nel nostro primo spazio informativo dedicato alla notizia del giorno. Questa mattina a Trapani, nel plesso della scuola Don Bosco di Mia Mazzini, si è tenuta un'iniziativa promossa dalla Cotulevi, dal titolo Il nostro verde, bene, comune, il servizio. La cerimonia si è aperta con gli studenti della Bassi Catalano che, passandosi la parola l'un con l'altro, hanno fatto delle riflessioni sull'importanza dei beni in comune. L'iniziativa di oggi è stata promossa dalla Cotulevi, che è tornata a piantare alberi nello spazio verde della scuola Don Bosco in Mia Mazzini, in continuità con quanto già fatto nel 2020. Posteggiando ogni mattina la macchina adiacente a questo parchetto e sapendo che viene qui fruito dai bimbi della scuola, ho cominciato a immaginare un recupero di tutto, partendo dal verde e non solo, perché se guardiamo attentamente diciamo che il muretto sta cadendo. Allora abbiamo pensato alla piantumare degli alberi antichi, nostri, molto siciliani, che non dovrebbero creare il problema della crescita con il loro tronco e quindi alle arance amare. E siamo qui oggi a presentarlo alla città, perché i bambini alla fine sono la città, sono i cittadini, sono i figli di tutti i nostri, quindi la notizia gira e soprattutto educare i bambini, osservando tutto questo, soprattutto i più grandetti, come le cose possono cambiare se tutti ci crediamo e ci impegniamo. Gli alberi sono stati donati con il contributo del CESVOP di Palermo. Noi come Centro Servizi per il Volontariato siamo i connettori delle relazioni tra le associazioni, gli enti del terzo settore e gli altri protagonisti come la scuola e l'amministrazione. È quello di promuovere, facilitare e rendere possibile la fruizione reale dei beni di comunità, come questo giardino. Quindi abbiamo nello specifico aiutato l'associazione a piantumare e speriamo che possa rigenerare e riqualificare nel tempo questo luogo in una logica di comunità. Presente alla cerimonia la dirigente della Bassi Catalano Ornella Cottone e il vice sindaco di Trapani Enzo Abruscato. Oggi per noi è una giornata di festa, ringrazio Cotulevi nella figura della Presidente Aurora Ranno per il sostegno che da sempre garantisce le istituzioni scolastiche del territorio. Nello specifico, grazie alla disponibilità di CESBOF, abbiamo dato il contributo a rendere più vivibile lo spazio esterno del Plesso Don Bosco, dove è allocata la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano. E alla presenza di una rappresentanza di studenti anche della scuola secondaria di primo grado, oggi rifletteremo insieme sul valore del rispetto del bene comune, in questo caso il rispetto del verde. L'amministrazione è presente sia in questo progetto che è un esempio di rete, dove le associazioni fanno la loro parte, ma l'iniziativa è incomiabile perché la cultura del verde è comunque una sinergia fra più associazioni e proprio quello che noi offichiamo da sempre. E' chiaro che ci vuole il sostegno dell'amministrazione locale, come in questo caso dobbiamo rappresentare bene da una parte l'esigenza che è quella di avere appunto più verde, dall'altra anche la volontà di voler essere complementare a iniziative che l'associazione in questo caso e la Cotulevi hanno ben rappresentato. Questa era la nostra notizia del giorno, adesso ci fermiamo per una breve pausa e ci ritroviamo tra poco con tutte le altre notizie di oggi. A tra poco. Il bazar della droga ha individuato a Rione Capucinelli di Trapani, un vero e proprio supermarket della droga. I carabinieri hanno arrestato un 44enne pregiudicato. Frequenze TV da domani si cambia. Telesud transita la nuova tecnologia T2 e televisori da risintonizzare sul canale 88. Mancata manutenzione dei pozzi di Bresciana, le ragioni della crisi idrica a Trapani, secondo la consigliera Anna Garuccio, che annuncia un esposto alla Corte dei Conti per la maggiore spesa in acquisto di acqua da parte del Comune. Lotta all'inciviltà, la battaglia della Polizia Municipale di Trapani contro l'abbandono dei rifiuti, altre sanzioni. I Granata contro la Capolista e il Trapani Calcio cerca riscatto contro la Gelbison, mancano tre punti per la salvezza matematica. Reaction alla Trapanese, quando la passione diventa lavoro nell'approfondimento, la singolare vicenda di una coppia trapanese divenuta youtuber. Ben ritrovati con il nostro notiziario. I carabinieri scoprono un bazar della droga nel rione Cappuccinelli. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri delle stazioni di Erice Borgo annunziata di Trapani con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del XII Regimento Carabinieri Sicilia hanno arrestato un 44enne già gravato da precedenti, per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante una discreta azione di controllo dei movimenti dell'uomo, già sospettato di essere dedito allo spaccio dei stupefacenti, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione di un edificio di edilizia popolare nel quale lo stesso passava la maggior parte del proprio tempo, pur non essendo la sua abitazione di residenza. In tale contesto, i militari dell'arma hanno atteso il momento più opportuno per intervenire, ovvero mentre avveniva la compravendita di una dose di droga tra il 44enne e un assuntore abituale, quest'ultimo poi segnalato alla competente prefettura di Trapani. Una volta all'interno del locale, i carabinieri hanno rinvenuto 73 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina, 33 grammi di cristalli di crack, una sorta di libro mastro con cifre e nomi che potrebbe riportare la contabilità di presunte attività di spaccio, un bilancino di precisione e la somma contante di 75 euro, verosimilmente provento del traffico illecito. Sono stati rinvenuti inoltre un grosso coltello con la lama ancora sporca di hashish, una macchina per il sottovuoto con le relative busse e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe adibito l'immobile a vero e proprio bazar di sostanze stupefacenti. A tale scopo era stata collocata una robusta porta in acciaio con una finestrella scorrevole dalla quale gli investigatori ritengono avvenisse lo spaccio. Il locale era provvisto anche di ben 5 telecamere a circuito chiuso posizionate su tutto il perimetro esterno. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani hanno ristretto l'uomo presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. L'arrestato è stato altresì deferito poiché avrebbe occupato abusivamente il locale in cui avveniva la presunta attività di spaccio nel corso dell'udienza di convalida il competente giudice ha disposto la permanenza dell'uomo nell'istituto carcerario. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. E continuiamo con la cronaca. Agenti della Polizia Stradale hanno fermato e denunciato un uomo di 30 anni per aver rubato la borsa ad una donna mentre questa era all'interno della chiesa dei Salesiani. L'uomo approfittando del fatto che all'interno della chiesa non vi fosse nessuno a parte la vittima si è impossessato della borsa riposta su una panca allontanandosi velocemente. L'autore del furto segnalato dalla stessa vittima ad una pattuglia della Polizia Stradale in transito è stato individuato nei pressi dell'Hotel Crystal e con l'ausilio di un altro equipaggio della Questura è stato identificato e denunciato. La borsa con tutto il suo contenuto è stata restituita alla signora. Ancora cronaca, ci spostiamo a Marsala. Controlli dei carabinieri 5, le persone denunciate. Vediamo. Carabinieri della compagnia di Marsala e della compagnia di intervento operativo del XII Regimento Sicilia hanno operato una serie di servizi di controllo nel territorio prevalentemente nel centro storico della città. 5 le persone denunciate durante un controllo. A seguito di perquisizione personale, due persone di 39 e 22 anni sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico di circa 15 centimetri. Un altro uomo di 55 che era agli arresti domiciliari è stato invece fermato a un posto di blocco nei pressi della sua abitazione alla guida di un'auto. Un altro ragazzo appena maggiorenne è stato denunciato perché dopo un incidente stradale è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. Infine, un ventenne marsalese è stato sorpreso a rubare cavi elettrici dalla rete pubblica e in possesso di un coltello di genere vietato. Per questo è stato denunciato. I carabinieri hanno segnalato alla prefettura di Trapani quale assuntori di sostanze stupefacenti. 5 persone cui hanno sequestrato complessivamente 13 grammi di marijuana e 7,5 grammi di hashish. E andiamo avanti con le notizie. La Sicilia passa al nuovo digitale terrestre. Telesud è transitata alla nuova tecnologia in questi giorni nel resto dell'isola. Da domani tocca alla provincia di Trapani. Vediamo il servizio. Il nuovo digitale terrestre è arrivato. Da domani si transiterà alla nuova tecnologia che porterà nel 2023 al T2. Telesud è già scesa al canale 88 nel resto della Sicilia. Le province di Ragusa, Enna, Caltanissetta ed Agrigento sono servite dal nuovo operatore di rete sull'isola Railway, a giudicatario lo scorso anno del bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Da domani a giovedì, invece, lo switch-off per le province di Trapani e Palermo. Una vera e propria rivoluzione per l'emittenza locale in Italia che è iniziata lo scorso marzo nelle varie regioni del Paese. Vantaggi e svantaggi? Certamente il nostro gruppo editoriale trarrà i benefici di essere trasportati da altissimi standard qualitativi che la partecipata della corazziata pubblica assicura. Alcune zone del territorio, inoltre, verranno finalmente coperte adeguatamente, in particolare quelle del Belice, Salemi, Partanne e Castelvetrano, così come alcune zone d'ombra, Marsala Centro su tutte. Al momento, tuttavia, alcune zone della parte nord della provincia, l'agro e di Cino in particolare, non avrà copertura. Una mancanza che esula dalla nostra volontà, ma colpa di uno schema di rete che attualmente penalizzerà i cittadini di Busseto-Palizzolo, Custonace, San Vito-Lo Capo e Valdedice, così come Pantelleria. Un gap che Telesud sta cercando già di eliminare a stretto giro, interfacciandosi con i vertici railway, in collaborazione con i primi cittadini delle rispettive amministrazioni che responsabilmente si stanno attivando per tempo, così da garantire la pluralità di informazione anche a livello territoriale agli abitanti di queste aree. Quindi, da domani, si cambia. I nostri ripetitori dovranno essere spenti già in mattinata, per poi essere trasportati dal nuovo operatore di rete in giornata stessa. Per il telespettatore basterà disporre una nuova risintonizzazione dei propri televisori, trovandoci, come sempre, ogni giorno con voi sul canale 88. Adesso ci fermiamo per una breve pausa e ci ritroviamo tra poco. Mancata manutenzione dei pozzi di Bresciana, le ragioni della crisi idrica a Trapani, secondo la consigliera Anna Garuccio, che annuncia un esposto alla Corte dei Conti per la maggiore spesa in acquisto di acqua da parte del Comune. Lotta all'inciviltà la battaglia della Polizia Municipale di Trapani contro l'abbandono dei rifiuti, altre sanzioni. E per lo Sporti, Granata contro la Capolista, il Trapani Calcio Cerca, il riscatto contro la Gelbison, mancano tre punti per la salvezza matematica. Ben ritrovati con la seconda parte del nostro notiziario. La crisi idrica a Trapani, nel Comune di Misiliscemi e nelle frazioni, è stato oggetto di un intervento della consigliera Anna Garuccio, nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera, durante le comunicazioni. Vediamo il servizio. La crisi idrica delle ultime settimane, che ha portato il Sindaco Giacomo Tranchida a chiedere a Siciliacque di erogare 40 litri al secondo nel serbatoio di San Giovannello, secondo la consigliera Anna Garuccio, sarebbe dipendente dalla cattiva manutenzione dei pozzi di Bresciana. Proprio le condizioni dei pozzi sarebbero alla base di una erogazione insufficiente proveniente da Bresciana, al punto che, nonostante l'intervento di Siciliacque, molte famiglie che da settimane sono senza acqua o ne ricevono poca, ricorrono a loro spese alle autobotti private. Accade anche che lungo le stesse arterie stradali alcuni ricevono acqua, altri no, poiché è scarsa la pressione nelle condotte. Nel suo ragionamento sulle cause della crisi idrica, la consigliera Garuccio esclude l'abbassamento della falda acquifera per cause naturali e afferma che nulla c'entra la siccità, come invece affermato nei giorni scorsi dal sindaco Tranchida. Per Anna Garuccio tutto sarebbe legato alla gestione dei 18 pozzi di Bresciana, sei dei quali risultano fermi dal 2018 e 2019, mentre tre funzionano male all'incirca dallo stesso periodo. Nelle sue comunicazioni al Consiglio Comunale, Anna Garuccio, che ha effettuato un accesso agli atti, indica anche le sigle dei pozzi fermi e quelle dei pozzi malfunzionanti. Per la consigliera d'opposizione, l'amministrazione, nell'arco di questi quattro anni, non avrebbe mai provveduto alla riparazione dei danni né alla manutenzione dei pozzi, preferendo l'acquisto di acqua da Sicile Acque. Per Garuccio una scelta inspiegabile, considerato che i guasti avrebbero potuto essere riparati con poca spesa. Dimostrazione ne sia, ha affermato Anna Garuccio, il fatto che il 28 aprile scorso all'albo del Comune è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la riparazione di tre pozzi, in particolare degli impianti di sollevamento, per un totale di quasi 79 mila euro. Interventi semplici per Garuccio, manutenzione del corpo della pompa, della componente elettrica, dei carroponte per la movimentazione delle stesse, dei quadri di alimentazione, dei soft starter, degli UPS, delle colonne di adduzione. A fronte di riparazioni economicamente vantaggiose, deduce Anna Garuccio, dal 2018 il Comune di Trapani avrebbe, invece, preferito acquistare da Sicile Acque 4 milioni e 354 mila euro di acqua, diventando da creditore nei confronti di Sicile Acque a debitore. Solo nell'anno 2020, il cui bilancio consuntivo a giorni verrà votato dall'Aula Consiliare, insieme al disavanzo di amministrazione, il Comune ha acquistato da Sicile Acque 1 milione e 334 mila euro di acqua. In conclusione delle sue comunicazioni all'Aula, Anna Garuccio si chiede e ha chiesto quali siano state le motivazioni di pubblica utilità che hanno portato il sindaco Tranchida e l'assessore Nini Romano a perseguire la scelta dell'acquisto di acqua, invece, della riparazione dei pozzi di Bresciana. La consigliera ha annunciato l'invio degli atti e di una sua relazione alla Corte dei Conti. La guardia costiera di Trapani ha sequestrato rete da pesca illegale e denunciato il comandante di una motopesca. Vediamo. Più di 2.000 metri di rete da pesca illegale sono stati sequestrati dai militari della Guardia Costiera di Trapani che hanno anche elevato una multa di Euro 2000 per il comandante del motopesca farmato in mare. Il risultato, conseguito dalla Capitaneria di Porto, che ha monitorato con i sistemi informatici di tracciamento del traffico marittimo installati presso la sala operativa alcuni motopesca in navigazione in prossimità dell'isola di Marettimo, e non appena individuata la precisa posizione in mare sono stati immediatamente raggiunti dal gommone pneumatico B112 condotto dagli equipaggi presenti sull'isola che hanno poi intercettato un motopesca con a bordo reti professionali illegali. L'unità affermata è stata poi condotta per ulteriori accertamenti presso il porto di Trapani, quindi le reti detenute a bordo, tre spezzoni da circa 800 metri ciascuno di reti da poste fisse del tipo Adimbrocco, sono state sequestrate e depositate in Capitaneria, mentre il comandante del motopesca è stato sanzionato con un verbale amministrativo di Euro 2000. L'attività si inserisce nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulla pesca marittima svolte istituzionalmente dalla Guardia Costiera per garantire un corretto uso di doni e attrezzi professionali da pesca al fine di prevenire e reprimere l'utilizzo di tutte le tipologie di rete a forte impatto negativo sia sugli habitat ed ecosistemi marini che più in generale sulla fauna marina, ma riguarda anche un più ampio quadro di operazioni di controllo dell'intera filiera ittica per la tutela degli stock ittici oltre che della salute del consumatore finale. La Polizia Municipale di Trapani e il Comune continuano la lotta al contrasto contro l'abbandono dei rifiuti, oltre 12 sanzioni per un ammontare di 7.200 euro. Notificate altre 12 sanzioni per abbandono di rifiuti in strada per un ammontare complessivo pari a euro 7.200. Non si ferma la lotta al contrasto contro l'abbandono dei rifiuti messa in atto dal Comune di Trapani insieme con la Polizia Locale e con il precioso contributo degli ispettori ambientali dell'Associazione di Tutela dell'Ambiente e degli Animali. Nei giorni scorsi un grave atto vandalico è stato perpetrato ai danni delle telecamere ubicate nei pressi di Via Palo Emilio D'Angelo a Rione Sant'Alberto, dove da tempo l'amministrazione Tranchida riceve continue segnalazioni di degrado a causa di incivili che nonostante le ripetute bonifiche continuano senza sosta a sporcare ed abbandonare i rifiuti. Non sarà di certo un atto vandalico che condanniamo fermamente a bloccare le attività di contrasto contro l'inciviltà di alcuni trapanesi che non amano la propria città e che continuano a causare un danno anche economico all'amministrazione. Continueremo a sanzionare ed invitiamo la cittadinanza a collaborare segnalando gli abbandoni, dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Romano. Per gli appuntamenti su Telesud vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la partita di basket, pallacanestro Trapani Euro Basket Roma che andrà in onda alle 20.30 e in replica alle 23.00. Vi ricordiamo inoltre che da domani 4 maggio in provincia di Trapani dovrete risintonizzare i vostri televisori per lo switch off che transiterà nella nuova tecnologia T2. Telesud potrete trovarlo sul canale 88, sempre del digitale terrestre. Adesso ci fermiamo e ci ritroviamo tra poco con la pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio. Domani al provinciale arriva la Gelbison e il Trapani scenderà in campo alle 15.00 contro la Capolista e Granata sono alla ricerca dell'aritmetica salvezza e Campani invece al raggiungimento del salto di categoria in Serie C. A presentare la sfida di domani è stato come di consueto mister Ivan Moschella. Ascoltiamolo. I ragazzi hanno lavorato, abbiamo provato a fare qualcosa in più rispetto alla normalità perché questa squadra ha bisogno di mettersi anche a posto dal punto di vista fisico, visto che i problemi che ci sono stati in passato e che ci sono ancora. Abbiamo giocatori che sono a 50%, giocatori che hanno recuperato da poco come Spano, che sarà convocato. Non sappiamo ancora quanto tempo c'è nelle gambe, però abbiamo provato a portarci dentro tutti, anche perché abbiamo due assenze come quella del capitano e quella di Olivera. Abbiamo lavorato, questa è la cosa più importante, i ragazzi sono stati disponibili, ma d'altronde questo è un gruppo che è sempre stato disponibile. Adesso c'è la partita. La Capolista ha dei valori importanti, ha tanti punti, li ha meritati tutti, è organizzata, io l'ho vista giocare dal vivo una volta, ha raggiunto in gamba, una buona squadra, però noi dobbiamo pensare a fare punti, perché noi abbiamo bisogno di punti, per chiudere il discorso salvezza, perché ancora siamo dentro, paradossalmente io avevo molta paura della partita di Troina, perché veniva in un momento difficile per la squadra, oggi ho meno paura perché so che la squadra mentalmente è pronta per affrontare la prima classifica, e quindi i stimoli vengono da soli. è chiaro che ho molto rispetto per la Gelbison, però in questo momento ho tanto rispetto anche per i miei giocatori, spero solo che riescano a dare in campo quello che vogliono e quello che hanno dentro. Chiederò il suo impegno, la benegazione, ho chiesto a qualcuno di farlo un sacrificio in più, e i ragazzi sono disponibili a questo, poi è chiaro che poi c'è il campo che determina tutto, però i ragazzi sono a posto. I tifosi ho poco da dire, quando sono tornato ho chiesto sostegno, ce lo stanno dando il sostegno, chiedo solo questo, noi quest'anno è stato un anno sofferente per tutti, per i tifosi perché amano la squadra, per chi ci lavora, ve lo posso garantire che è stato un anno di sofferenza, perché ci sono state troppe cose strane, troppe cose particolari, però fa parte del calcio, quindi spero che con l'impegno domani della partita dei ragazzi e spero anche con il risultato importante contro una squadra prima in classifica, a meno di a un piccolo sollievo ai tifosi che sono stati sempre presenti, sono venuti anche a portici, a sostenerci. Io ho poco da chiedere, ho solo sostegno e amore verso i colori, perché poi fra 15 giorni finisce il campionato e poi tutto il resto chi vivrà vedrà. E a dirigere Trapani Gelbison in programma domani allo stadio provinciale sarà Giovanni Agostoni di Milano a Coadiuvarlo, saranno gli assistenti Davide Fedele di Lecce e Cosimo Schirinzi di Casarano. Da oggi sarà possibile acquistare biglietti del match presso la biglietteria dello stadio provinciale dalle 16 alle 19, domani dalle 9.30 alle 14.45. Presentata ufficialmente presso il Kite Club dello stagnone di Marsala, la Water Bikes assoluta novità dell'estate 2022 che permette di pedalare tra le acque della laguna. Vediamo il servizio. Entusiasmo è stata la parola d'ordine di tutta la giornata. La bicicletta acquatica, la Water Bike che permette di pedalare tra le acque della laguna, ha fatto breccia su tanti appassionati del mare, ma anche sui turisti, curiosi di provare una nuova esperienza resa possibile grazie all'iniziativa di un gruppo di amici che si sono riuniti nell'associazione Water Bike Sicily. La Water Bike è semplicemente una bicicletta sospesa dai tubogari, come se fossero dei tubogari di gommoni, ed è una sigletta sospesa in acqua. È semplicissimo perché basta salirci sopra, pedalare e che vai indietro e in avanti. Giri a sinistra e va a sinistra, giri a destra e va a destra. Per i bambini dai 9 a 99 anni, non ci possiamo sbagliare. E poi la cosa bella è lo scenario dove viviamo, ragazzi. Abbiamo pensato di portare questa cosa a Marsala per apprezzare le bellezze della natura. Siamo cinque amici, io, Luigi, Vannella, Antonio Parrinello, Nino Rodicina e Nicola Buffa. Quindi speriamo che sia un successo, ma per tutti, perché è un bel giocattolo che abbiamo potuto portare a casa nostra. L'obiettivo era quello di valorizzare proprio in questo periodo particolare, ulteriormente le bellezze che già la Laguna dello Stagnone ci offre e che sicuramente noi saremo il valore aggiunto a quello che già la bellezza dello Stagnone ci dà. 15 al momento le bikes messe in acqua allo Stagnone, di cui due tandem, ma in futuro potrebbero aumentare. Si tratta infatti di un progetto in divenire sposato anche dal Kite Club Marsala. Turisti e cittadini hanno potuto godere della bellezza della laguna, facendo al contempo un'esperienza unica nel suo genere, un vero e proprio gioco acquatico a zero impatto ambientale. Una figata bellissima, vengo da Grigento, ma è stata una cosa bellissima, ho visto la pubblicità su internet ed è una cosa molto bella che proverò sicuramente agli amici. Credo che sia un'iniziativa meravigliosa, soprattutto innovativa, attira molto la curiosità anche perché io sono qui in vacanza e avendo sentito parlarne sono venuta subito a capire un po' di cosa si tratta e devo dire che è meraviglioso anche per i bambini. Allora, davvero un'esperienza eccezionale e voglio fare i complimenti veramente a chi ha ideato veramente questa nuova disciplina e quindi per valorizzare soprattutto il nostro territorio. Ragazzi venite, dai, provate questa nuova esperienza, venite qua. Ben ritrovati nello spazio dedicato all'approfondimento. Davide e Laura sono marito e moglie, lui romanese, lei colombiana. Da due mesi circa stanno riscuotendo un successo inaspettato sulla piattaforma YouTube. Un'idea, una passione che si sta trasformando ben presto in un lavoro. Vediamo di che si tratta e conosciamo quindi questa nuova realtà. Questo è l'approfondimento di oggi. Welcome, ciao amici, ben arrivati. Hola a todos y todas. Hola a Davide. Ciao, come va? Bien. Todo bien. Allora ragazzi, ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento di reazioni. Oggi andiamo a reazionare un artista molto, ma molto, come dire... Lui è già della famiglia, Davide. Sì, sì, lui è come nostro figlio, lui è come nostro figlio, che vive con noi, dentro di noi. In questi giorni mi si è letteralmente aperto un mondo. Questa tipologia di lavoro, perché di lavoro adesso scopriremo che stiamo parlando, l'avevo notata. Non sapevo però che ci fossero dei trapanesi, due trapanesi, che nel giro di pochi mesi sono diventati famosissimi. Sono una coppia di coniugi, Davide e Laura, che attraverso questa invenzione mediatica delle reaction ai video musicali di artisti più o meno famosi sono riusciti ad accreditarsi davvero in diverse nazioni dell'Europa e hanno sempre più richiesto e per capirne di più ho chiesto a loro di venire con il camper, che in realtà è il loro studio televisivo, adesso lo scopriremo, qui in televisione perché volevo davvero provare a scoprire il loro segreto. Davide Giacalone, di là poi abbiamo Laura Guzman, la signora. Davide, ma cosa ti sei inventato? Abbiamo trovato un modo perfetto, quindi un camper dove c'è un'ottima insonializzazione e abbiamo creato le nostre reazioni, che facciamo delle reazioni mondiali, proprio a livello mondiale, quindi mediatico, e abbiamo visto che provandolo le persone ogni giorno avevano sempre più iscritti, sempre più iscritti e nel giro di due mesi e mezzo siamo arrivati a quasi 15.000 iscritti, camminiamo con 1.500 iscritti a settimana, quindi diciamo che è stata inaspettata, ci iscrivono persone da tutto il mondo, quindi partiamo dall'Australia fino a realmente in Brasile, a volte abbiamo problemi anche di comunicazione, siamo veramente felici, felici di questo perché le aziende ci contattano, insomma, un boom. La cosa che dovete capire è che è una passione, è un hobby, ma adesso non è più un hobby perché loro guadagnano attraverso questo lavoro, appunto, come ho detto prima. Sì, tutto è cominciato così perché non avevano neanche la monetizzazione e per arrivare a fare la monetizzazione ci sono persone che aspettano anni perché bisogna avere 1.000 iscritti e 3.000 ore, insomma, per arrivare a 3.000 ore di visualizzazione, l'abbiamo visto che nel giro di 15 giorni abbiamo fatto tutto e quindi abbiamo chiesto la monetizzazione e da lì è stato un crescendo e trovando i giusti artisti. C'è un grande lavoro di conoscenza delle tecnologie, delle metodiche di comunicazione attraverso i social network, attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, YouTube e i vari social network. Davide è uno di quelli che si impegna e ha studiato davvero come far avvenire le cose e poi, adesso lo scoprirete, non è tanto la sua bravura, lui è bravo dietro le quinte, ma il successo è donna e infatti adesso entriamo nel loro regno segreto, tecnico, il camper, perché se non ci fosse stata la sua signora, Laura, tutto questo non sarebbe avvenuto, confessalo. Ciao, ciao Laura. Ciao Nicola, benvenuto. No, ma grazie per avermi accettato. Ma te l'aspettavi tutto questo successo, Laura? No, no, no per niente, questa è stata una cosa bellissima, alla fine stiamo andando avanti. Qua praticamente è la vostra cabina di regia, prova a sedermi pure io, vediamo, è la vostra cabina di regia, avete telecamera, la luce, il compiuto per andare in diretta, avete realizzato uno studio con i pannelli proprio che poi si trasformano, la bandiera siciliana per far vedere che si è, manca quella della Colombia però, digelo. Sta qua dentro, è dentro, è dentro. Un giorno mi dice Davide, amore, perché non facciamo una reazione? E io le dico, per cosa, se alla fine quello che io sento della canzone è quello che mi interessa a me, a me non mi interessa quello che tu pensi, è me, è mia, la canzone, no? Padre mia, questo è stato un boom, boom, perché è impressionante, tutto il mondo parlava, ma come avete fatto, ma che cosa bella, questa canzone è lo stesso che sento io, mi viene di piangere, sento questa stessa emozione, Laura, sei così Davide, sei bravissimo, quindi sono due mesi, amore, due mesi. E da questo, beh, è arrivato un invito ufficiale pure ad Eurovision. Sì, infatti è arrivato un'email, a parte altre aziende che ci stanno cercando, ne abbiamo già due, però in due mesi è difficile già trovarne, ma ci contattano loro. Proprio come sponsor? Voglio dire, la cosa bella è che noi vendiamo emozioni, cioè noi ci emozioniamo e quello che vogliono da noi è vedere come reazioniamo alle loro canzoni. Ben ritrovati con la nostra seconda edizione. Iniziamo parlando del fatto che la Sicilia passa al nuovo digitale terrestre. Telesud è transitata alla nuova tecnologia in questi giorni nel resto dell'isola, da domani tocca alla provincia di Trapani. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Il nuovo digitale terrestre è arrivato. Da domani si transiterà alla nuova tecnologia che porterà nel 2023 al T2. Telesud è già scesa al canale 88 nel resto della Sicilia. Le province di Ragusa, Enna, Caltanissetta ed Agrigento sono servite dal nuovo operatore di rete sull'isola Railway, aggiudicatario lo scorso anno del bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Da domani a giovedì, invece, lo switch-off per le province di Trapani e Palermo. Una vera e propria rivoluzione per l'emittenza locale in Italia che è iniziata lo scorso marzo nelle varie regioni del Paese. Vantaggi e svantaggi? Certamente il nostro gruppo editoriale trarrà i benefici di essere trasportati da altissimi standard qualitativi che la partecipata della corazziata pubblica assicura. Alcune zone del territorio, inoltre, verranno finalmente coperte adeguatamente, in particolare quelle del Belice, Salemi, Partanne e Castelvetrano, così come alcune zone d'ombra, Marsala Centro su tutte. Al momento, tuttavia, alcune zone della parte nord della provincia, l'agro e di Cino in particolare, non avrà copertura. Una mancanza che esula dalla nostra volontà, ma colpa di uno schema di rete che attualmente penalizzerà i cittadini di Busseto Parizzolo, Custonace, San Vito Lo Capo e Valdedice, così come Pantelleria. Un gap che Telesud sta cercando già di eliminare a stretto giro, interfacciandosi con i vertici railway, in collaborazione con i primi cittadini delle rispettive amministrazioni che responsabilmente si stanno attivando per tempo, così da garantire la pluralità di informazione anche a livello territoriale agli abitanti di queste aree. Quindi, da domani, si cambia. I nostri ripetitori dovranno essere spenti già in mattinata per poi essere trasportati dal nuovo operatore di rete in giornata stessa. Per il telespettatore basterà disporre una nuova risintonizzazione dei propri televisori, trovandoci, come sempre, ogni giorno con voi sul canale 88. Adesso la cronaca. I carabinieri scoprono un bazar della droga nel rione Capucinelli. Vediamo il servizio. I carabinieri delle stazioni di Erice Borgo, annunziata di Trapani, con il supporto del personale della compagnia di intervento operativo del XII Regimento Carabinieri Sicilia, hanno arrestato un 44enne già gravato da precedenti, per cui sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante una discreta azione di controllo dei movimenti dell'uomo, già sospettato di essere dedito allo spaccio dei stupefacenti, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione di un edificio di edilizia popolare nel quale lo stesso passava la maggior parte del proprio tempo, pur non essendo la sua abitazione di residenza. In tale contesto, i militari dell'arma hanno atteso il momento più opportuno per intervenire, ovvero mentre avveniva la compravendita di una dose di droga tra il 44enne e un assuntore abituale, quest'ultimo poi segnalato alla competente prefettura di Trapani. Una volta all'interno del locale, i carabinieri hanno rinvenuto 73 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina, 33 grammi di cristalli di crack, una sorta di libro mastro con cifre e nomi che potrebbe riportare la contabilità di presunte attività di spaccio, un bilancino di precisione e la somma contante di 75 euro, verosimilmente provento del traffico illecito. Sono state rinvenute inoltre un grosso coltello con la lama ancora sporca di hashish, una macchina per il sottovuoto con le relative buste e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe adibito l'immobile a vero e proprio bazar di sostanze stupefacenti. A tale scopo era stata collocata una robusta porta in acciaio con una finestrella scorrevole dalla quale gli investigatori ritengono avvenisse lo spaccio. Il locale era provvisto anche di ben cinque telecamere a circuito chiuso posizionate su tutto il perimetro esterno. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno arrestato l'uomo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani hanno ristretto l'uomo presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. L'arrestato è stato altresì deferito poiché avrebbe occupato abusivamente il locale in cui avveniva la presunta attività di spaccio nel corso dell'udienza di convalida. Il competente giudice ha disposto la permanenza dell'uomo nell'istituto carcerario. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. Questa mattina a Trapani nel plesso della scuola Don Bosco di Via Mazzini si è tenuta un'iniziativa promossa dalla Cotulevi dal titolo Il nostro verde bene in comune. Vediamo il servizio di Mario Torrente. La cerimonia si è aperta con gli studenti della Bassi Catalano che passandosi la parola l'un con l'altro hanno fatto delle riflessioni sull'importanza dei beni in comune. L'iniziativa di oggi è stata promossa dalla Cotulevi che è tornata a piantare alberi nello spazio verde della scuola Don Bosco in Via Mazzini in continuità con quanto già fatto nel 2020. Posteggiando ogni mattina la macchina adiacente a questo parchetto e sapendo che viene qui fruito dai bimbi della scuola ho cominciato a immaginare un recupero di tutto partendo dal verde e non solo perché se guardiamo attentamente diciamo che il muretto sta cadendo. Allora abbiamo pensato alla piantumare degli alberi antichi, nostri, molto siciliani che non dovrebbero creare il problema della crescita con il loro tronco e quindi alle arance amare. Siamo qui oggi a presentarlo alla città perché i bambini alla fine sono la città, sono i cittadini, sono i figli di tutti i nostri. La notizia gira e soprattutto educare i bambini osservando tutto questo, soprattutto i più grandetti. Come le cose possono cambiare se tutti ci crediamo e ci impegniamo. Gli alberi sono stati donati con il contributo del CESVOP di Palermo. Noi come Centro Servizi per il Volontariato siamo i connettori delle relazioni tra le associazioni, gli enti del terzo settore e gli altri protagonisti come la scuola e l'amministrazione. È quello di promuovere, facilitare e rendere possibile la fruizione reale dei beni di comunità come questo giardino. Quindi abbiamo nello specifico aiutato l'associazione a piantumare e speriamo che possa rigenerare e riqualificare nel tempo questo luogo in una logica di comunità. Presente alla cerimonia la dirigente della Bassi Catalano Ornella Cottone e il vice sindaco di Trapani Enzo Abruscato. Oggi per noi è una giornata di festa. Ringrazio Cotulevi nella figura della Presidente Aurora Raranno per il sostegno che da sempre garantisce le istituzioni scolastiche del territorio. Nello specifico, grazie alla disponibilità di CESVOP, abbiamo dato il contributo a rendere più vivibile lo spazio esterno del Plesso Don Bosco, dove è allocata la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano. E alla presenza di una rappresentanza di studenti anche della scuola secondaria di primo grado, oggi rifletteremo insieme sul valore del rispetto del bene comune, in questo caso il rispetto del verde. L'amministrazione è presente sia in questo progetto che è un esempio di rete, dove le associazioni fanno la loro parte, ma l'iniziativa è incomiabile perché la cultura del verde è comunque una sinergia fra più associazioni e proprio quello che noi offichiamo da sempre. E' chiaro che ci vuole sostegno dell'amministrazione locale e come in questo caso dobbiamo rappresentare bene da una parte l'esigenza che è quella di avere più verde, dall'altra anche la volontà di voler essere complementare a iniziative che l'associazione in questo caso e la Cotulevi hanno ben rappresentato.